Vogliamo celebrare l'umore della motosega e per fare questo è tornato a trovarci Darino da Fiumicino. Eccomi qua! Buongiorno! Come potevo rinunciare a un'occasione? Figura, è il giorno tuo questo! Ieri il trio in aeroporto mi ha detto non abbiamo la motosega e io a me subito lì mi si è accesa la lampadina e ho detto ma vengo io! Ce l'ho in macchina! Ma come ce l'hai in macchina? Che ci fai con una motosega in macchina? Guarda, ieri ci abbiamo tagliato l'ultima palma, sai a Fiumicino c'è il problema del punteruolo rosso purtroppo. Sì, quel cavolo d'animale che uccide tutte le palme. Ieri l'ultima palma l'abbiamo fatta fuori regolarmente con la mia motosega. Palma! Palma è una città! L'unico problema è che ho fatto la miscela Ardue, quindi fa tanto tanto fumo! Eh lo so! Allora, vediamo anche però Massimiliano Troiani in studio. Perché la discussione all'aeroporto è stato ma anch'io ho la motosega? Ma mica sarà come la mia! La mia motosega è più grossa della tua! Allora, noi vi faremo sentire il suono. Adesso toglieremo le immagini dalla webcam, le daremo lì e vi faremo capire quale delle due è più grossa. Eccola qua, Massimiliano, buongiorno! Quella di Massimiliano ha la lama, ragazzi! È un po' pericolosa! Per secare le orecchie a Danilo! Allora, vediamo un attimo, chiediamo a Francesco Lancia di togliere la base, se puoi! Aspettiamo la sedia! Non fare danni, che c'è Vito e Andriani all'ascolto! Abbiamo festeggiato a poco trent'anni, vorremmo rimanere qui almeno fino a 31! Io consiglio di aprire la porta! Apriamo la porta! Sì, apriamo la porta! Avrete tutte le finestre lì fuori, ecco! 20 secondi, se non moriamo! Chi inizia? Vado io! Danilo! Poi spegnila eh! Allora, iniziamo con quella di Massimiliano! Vai Massimiliano! Ah no, ecco è partita! Basta, basta! Spegnila! Spegnila! Vai Massimiliano! Oddio mio, che paura che mi fanno! Basta, basta! Mamma mia, quanto sei maschio! Mamma mia! Ragazzi, secondo me vince Massimiliano eh! Bravo Massimiliano, bravo, bravissimo!